Più agriturismi, B&B, servizi di alloggio e ristorazione, consulenti aziendali, servizi alle imprese e alle persone, aziende informatiche e di comunicazione. Meno imprese edili, agricoli, calzatoriere e metalmeccaniche. In sintesi, perdono colpi le aziende tradizionali e crescono le nuove professioni e le aziende innovative del terziario. Per il sistema produttivo marchigiano, il 2016 è stato ancora una volta un anno difficile. A dimostrarlo i dati, i nuovi imprese elaborati dai centri studi CNA e Confartigianato Marche. Tra gennaio e dicembre hanno cessato l'attività 10.770 imprese e hanno aperto i battenti 9.515 realtà, con un saldo negativo di 1.255 unità. Dopo due trimestri di crescita, sono stati gli ultimi tre mesi dell'anno a presentare un conto pesante con un calo di più di 1.000 aziende, sul quale hanno sicuramente inciso i recenti eventi sismici che hanno colpito il sud della regione. In Italia, invece, le imprese, per la prima volta dopo molti anni, sono tornate a crescere. Il conto più pesante, per tornare ai numeri delle marche, lo hanno pagato le imprese artigiane, meno 1.091, quelle agricole, meno 632, quelle edili, meno 526, e quelle del piccolo commercio, meno 355. Nel manufatturiero sono scomparse 180 imprese, soprattutto nel calzaturiero, meno 116, nell'industria metallifera, meno 57, e nel legno, con un saldo negativo di 32 unità. Si rafforzano, invece, alcune attività legate ai servizi più avanzati, quali servizi di informazione e comunicazione, più 72 imprese, insieme alle attività finanziarie assicurative, più 18 imprese, e le attività professionali di consulenza, più 53 imprese, quelle per i servizi alle imprese, più 78 attività, e le attività artistico e sportive, più 20, oltre a quelle della sanità e degli altri servizi sociali, con un più 33. Nelle Marche, affermano i presidenti di CNA Marche, Gino Sabatini, e di Confartigianato Marche, Valdimiro Belvederesi, crescono inoltre le attività dei servizi legati alla ristorazione e al turismo, a conferma dell'esistenza di una diffusa e crescente capacità di valorizzare il territorio e la sua cultura. Inoltre, un forte contributo lo hanno dato i giovani imprenditori.